Nozze d'argento per il palio del fungaiolo, l'evento settembrino promosso dal comune di San Giorgio insieme alla Proloco e con la collaborazione di numerose associazioni locali e dei volontari che non hanno fatto mancare la loro presenza. Una tre giorni che, come da 25 anni a questa parte, porta festa in paese e abbina lo stare insieme alla degustazione di uno dei prodotti più apprezzati e pregiati della stagione, i funghi. Un'esaltazione di questo frutto della terra che si è manifestato in diversi modi. Nel menu degli stand della Proloco e nelle vetrine dei negozi addobbate tema, le più belle sono state premiate nella giornata conclusiva della festa insieme ai partecipanti del tradizionale palio del fungaiolo, la gara di ricerca di funghi nel giardino del castello, sede del municipio. E poi iniziative per tutte le età, dall'arte agli spettacoli per le famiglie e dalla musica alle bancarelle. Nelle tre giorni di festa, dal 2008, è inserita anche la consegna del premio Alturas, a riconoscimento simbolico che il Comune di San Giorgio assegna a persone e attività che si sono distinte nell'arte, nella cultura, nell'associazionismo, ma anche a artigiani, commercianti e industriali. L'edizione 2022 è andata a Fausto Bersani, edicolante tuttofare, che ha un innato buon umore e tanta disponibilità nei confronti della clientela e dei suoi compaesani. Lo conoscono tutti il Fausto, perché con la sua ape cara consegna giornali, libri e latte a chi fa fatica a muoversi da casa. E con il suo usuale mezzo di trasporto è arrivato in piazza Marconi, dove la sindaca Donatella Alberoni gli ha consegnato il riconoscimento. Una persona semplice che, dice lui stesso, non fa nulla di anormale se non il suo mestiere, avviato dai suoi genitori 60 anni fa. Ma fa anche un servizio ogni mattina alla comunità e regala un sorriso ai suoi clienti, con una barzelletta, una battuta, una freddura. Ciò che ha fatto anche domenica alla consena del premio, davanti alle autorità e diversi compaesani, portando il sole in una giornata nuvolosa. Grazie all'inizio. Ciao!